buongiorno ragazzi da war machine bodybuilding oggi alleno le gambe e spero che questo video vi piaccia mi raccomando un bel like accendete la campanella iscrivetevi al canale e scrivetelo nei commenti se il video vi è piaciuto cominciamo ragazzi e vai questa è una panca di decathlon della domios modello 81 90 ovviamente gli ho portato delle modifiche per effettuare il leg session e questa nasce nasce come panca solo per fare pettorali addominale basta modifiche a portata sono questo braccio oscillante si può fare leg station poi smonto questo qua si può togliere e poi sono leg station sono tre anni che l'ho costruito carico massimo sui 100 120 kg e adesso nessun c'è l'ho costruito a bombazzo dopo aver fatto un buon riscaldamento da una partenza di 5 kg fino al massimo che potevamo mettere faremo 3 serie per 10 spinte al massimo va bene ciao 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 ragazzi la trappo bar lo l'ho riparata ricordate in un altro video l'avevo piegata adesso testiamo se funziona nel secondo step di riparazione della trap bar ho applicato questi due rinforzi testa e sinistra dietro la trap bar è aperta per fare gli affondi in movimento anche gli stacchi in più ho applicato queste due placche metalliche elettrosaldate con questi spuntoni leggermente più più lunghi e più rigidi adesso la testiamo proviamo man mano aumentiamo il peso e arriviamo al limite dell'attrezzo e vediamo se legge ciao Grazie a tutti. 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 Iscrivetevi, attivate la campanella e al prossimo video ci vediamo a bombazza.